Facciamo sul nostro portale Facebook ricordandovi che gli indirizzi sono sempre Veratv Redazione e Veratv Redazione 2 per interagire sul nostro portale social naturalmente anche Veratv Group e sul nostro portale internet www.veratv.it Ci spostiamo dunque sul nostro touchscreen per andare a vedere chi fesseggio oggi il giorno più importante dell'anno con gli auguri a Gabriele Crescenzi iniziamo questa rassegna appunto di compleanni auguri anche a Patrizia Marchionni che vediamo sorridente in questa foto di profilo buon compleanno a Patrizia che riceve tanti messaggi di auguri così come tanti messaggi anche per Amedeo Pelliccioni tanti auguri ad Amedeo buon compleanno anche al nostro amico che si ribatteggia il piccio tantissimi auguri a lui e anche a Renzo Gatti che vediamo in compagnia con questa foto di copertina molto artistica invece la foto che il nostro Renzo propone nella foto di profilo auguri anche a Fabio Tisi che vediamo al volante in questo scatto in questo simpatico scatto di copertina auguri in questo 29 marzo anche ad Enrico Carosi buon compleanno anche ad Alex Marini una foto festante per Alex che festeggiò oggi il suo compleanno auguri anche a Francesco Ghezzi che vediamo impegnato in musica in questa foto di profilo tanti messaggi di auguri per Francesco e naturalmente anche quelli della nostra redazione auguri anche ad Umberto Gatti buon compleanno a Max Ratta ancora auguri a Marika Rogantini con con buon compleanno a